nuova puntata di chiacchiere da rally in onda venerdì 31 maggio come sempre su ntv web interamente dedicata all'ottava edizione del rally del grappolo con me in studio fabio boggione ciao diana bentornata bentornati ai nostri ascoltatori allora siamo in attesa dei nostri ospiti che quest'oggi saranno valter bugnano organizzatore del rally del grappolo federico boglietti navigatore di elvi shantra e cave grande pilota di più della classe o6 quindi cosa dovete fare non dovete assolutamente perdere questa quarta puntata di chiacchiere da rally in onda venerdì 31 maggio alle 21 su ntv web